Per un paese libero, no? Forse per questo i giovani sono un po' arrabbiati, i giovani beat, no? Perché vogliono questa libertà ed è giusto che la desiderano, non ti pare? Anche le ragazze. Certo, la donna non fa parte della società. 10 aprile 1946. Nasce a Modena Caterina Caselli, cantante e in seguito produttrice discografica e molto popolare negli anni Sessanta. A 17 anni debutta come cantante, ma raggiunge il successo nel 1966 a Sanremo con Nessuno mi può giudicare. In quell'occasione viene soprannominata Casco d'Oro per via dell'acconciatura.